Una sindaca e una giunta a 360 gradi. Luisa Russo ha raccontato in mezz'ora di conferenza il lavoro svolto a Francavilla al mare in tre anni di amministrazione. Tante le opere realizzate e i progetti portati avanti. I fiori all'occhiello, eccoli. Mi sento di parlare delle opere di rigenerazione urbana realizzate nella zona centrale di Francavilla grazie ai finanziamenti PNRR che hanno portato alla trasformazione della città e all'avvio dell'opera del Cammino Verde con l'esproprio del Giardino di Mezzanotte che risale a pochi giorni fa. Quindi quel tratto che porterà le persone dalla costa fino a verso le nostre colline, il Paese Alto, è ormai un fatto concreto. Ma voglio far riferimento anche a piccole opere che spesso non sono visibili. Mi riferisco per esempio alla sistemazione dei marciapiedi che rende la città più accessibile, più accogliente, più ordinata e su cui ho investito circa 2 milioni di euro. E mi riferisco anche all'impianto di videosorveglianza che restituisce ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza. Abbiamo realizzato un impianto veramente di alta qualità ed oggi la città è sicuramente più controllata e potrà essere più sicura. Russo ha parlato anche di emergenze affrontate come il crollo del muro laterale della Galleria della Circonvallazione. Disagio durato da novembre 2023 a luglio scorso, ma c'è un'altra emergenza, quella idrica. Ho appena inviato insieme ad altri sindaci una nota ad ACA per chiedere la convocazione in un'assemblea straordinaria per affrontare il tema della dispersione idrica. Bisogna lavorare, programmare interventi strutturali affinché non ci sia la dispersione idrica. I problemi con ACA sono tanti. Sono tanti perché vengono da lontano e non ci si è messo mano. Perché qui a Francavilla si interviene quotidianamente su guasti ripetutamente, settimana per settimana, che portano alle chiusure non programmate dell'acqua e lasciano parti di città senza acqua. C'è il problema della qualità delle acque che finora non si era posto e che adesso si è posto prima a Francavilla e poi nella provincia di Pescara. Insomma, bisogna tutti insieme lavorare, ma mettendo intorno a un tavolo anche la Regione e se possibile il Governo per capire come intervenire e risolvere questa, che è un'emergenza che durerà nei prossimi decenni a mio avviso. Infine, per completare la città che ha in mente, la Sindaca ha anche detto Ci vuole un altro mandato. Stiamo già lavorando per mettere insieme progetti non ancora realizzati, per mettere insieme proprio quella che è l'idea per completare questa città che tutti abbiamo in mente e su cui stiamo lavorando con maggiore consapevolezza, con maggiore esperienza, con maggiore affiatamento tutti quanti.